Il segreto. Maurizio respinge le avance di Nazaria. Anticipazioni spagnole. Non era certo con Nazaria che Maurizio voleva passare il resto della sua vita, ma nelle puntate il segreto trasmesse in Spagna scopriamo che Francisca Montenegro mette in atto un altro attroce ricatto e obbliga il suo braccio destro a sposarsi con una donna scelta da lei. Dopo il matrimonio, però, l'uomo si rende conto si non desiderare affatto la donna, ma di essere ancora legato alla sua fei. Infatti, quando Nazaria si avvicina al marito con evidenti intenzioni, lui la rimette al suo posto ricordandole qual è la verità che li unisce. Seconda parte. Nazaria, umiliata e offesa. Un giorno, nelle cucine della casona, Maurizio sta pranzando e Nazaria gli fa compagnia. I due stanno conversando e l'uomo è divertito da qualcosa che gli racconta la moglie. La donna poi si alza per portare i piatti al lavabo e si avvicina al marito, facendogli capire il suo desiderio di averlo durante la notte. A quel punto Maurizio fa un passo indietro e dice chiaramente a Nazaria di averla sposata solamente perché gliel'ha imposto donna Francisca, confessandole che non ci sarà mai alcun sentimento tra di loro. La donna resta sconvolta dalle decise parole del Godoy, così offesa e umiliata esce dalla stanza sbattendo la porta. Quali saranno le conseguenze di questo rifiuto, Nazaria, ora che sa che no ha alcuna possibilità di conquistare il capomastro, reggerà ancora la farsa del matrimonio, oppure renderà le cose difficili, lo scopriremo presto con le prossime anticipazioni del segreto.